Viene presentato oggi, presso la caffetteria del Castello Aragonese, il vino Castello, che nasce proprio qui, sul Castello Aragonese. Ne parliamo con Nicola Mattera, una lunga storia che parte 30 anni fa. Sì, parte molto tempo fa. Questo posto che adesso accoglie la vigna era prima proprio un roveto, come molte parti del castello. Mio padre Gabriele e mia madre Karin videro che c'era la possibilità, in fondo, di impiantare un vigneto, perché era proprio un'area pianeggiante, l'unica, anche se non molto grande. E decisero di chiedere l'aiuto di Andrea D'Ambra, che all'epoca li assiste per impiantare questo vigneto. E oggi, a distanza di 30 anni, un tempo un po' lungo, siamo riusciti finalmente a realizzare questo sogno, di realizzare un vino con Andrea, che si chiama Castello, ed è un Biancolella in purezza. Addirittura un vino Doc, questo forse nemmeno Gabriele e Karin l'avrebbero mai immaginato quando hanno impiantato questo vigneto. Quindi c'è anche un po' la storia del castello in questo vino. Assolutamente sì. È un po' simbolico per noi, infatti è anche emozionante, perché va in parallelo con tutto quello che è stato il restauro che Gabriele e Karin hanno portato avanti negli ultimi anni e che hanno riportato il castello a nuova vita. Ecco, l'ultima domanda. Anche una coltivazione un po' eroica, quella della vita sul castello? Assolutamente, perché tutto è eroico sul castello, nel senso è più complicato. Del resto la cultura della vita eroica si può usare come termine per tutta l'isola, perché là dove ci sono terrazzamenti, qui anche abbiamo i nostri problemi, però a quanto pare si sono superati. Grazie. Grazie.